Siamo al mercato San Decenzio di Pesaro, questa mattina semideserto per via del vento sono volate diverse bancarelle e i commercianti hanno lavorato pochissimo. Andiamo a sentire i loro pareri nel servizio. La crisi colpisce anche il mercato San Decenzio di Pesaro e la nuova ondata di Covid-19 rischia di penalizzare ulteriormente un settore già duramente colpito dalla prima fase del coronavirus. Questa mattina il mercato cittadino a Pesaro era semideserto per via soprattutto delle nuove restrizioni imposte dal passaggio delle Marche in zona arancione. Il divieto di spostamento da un comune all'altro ha fatto registrare un forte calo di presenze al San Decenzio e diversi ambulanti sono stati costretti ad andarsene ancora prima dell'ora di pranzo. Altri non si sono presentati affatto. Qualcosa in più la domenica si fa ma il martedì non si fa più niente specialmente dopo c'è la domenica e c'è stata la domenica e poi il mercato dopo non si fa niente però ha chiuso tutti i comuni e chi viene a comprare qui? Ci ha ridotto in miseria. Chiudiamo anche perché guarda non c'è un cane, non solo io, tutti. Questi sono mercati, se chiudeva del tutto era meglio. Intanto stamattina a causa del vento è volato anche qualche tendone. Nessun senso unico oggi per i pedoni dopo la sperimentazione di domenica scorsa al mercato straordinario di Piazzale Carducci avviata dal comune per contrastare gli assembramenti, la quale ha dato, secondo gli ambulanti, buoni risultati. Domenica mi è andata benissimo perché a me va bene così, va bene, nel senso che la domenica c'è sempre molta gente che non può venire il martedì e vengono proprio per acquistare. La sperimentazione del senso unico? Ma a me non ha influito tantissimo, anzi le dirò che io essendo uno dei primi banchi in Piazza Carducci nell'angolo vicino alla palestra, a me venivano al ritorno e poi uscivano davanti a me, perciò andava benissimo. Davanti alle bancarelle erano comunque presenti cartelli per ricordare ai cittadini le regole, come quella appunto di mantenere la distanza di un metro e indossare la mascherina. Avete regolato, diciamo, gli ingressi, le entrate e le uscite, suddividendole? Abbiamo l'igienizzante, abbiamo regolato appunto le entrate e le uscite e cerchiamo appunto se c'è assembramento di far allontanare le persone se si dovesse creare un eventuale assembramento. Per quanto riguarda domenica, intanto dobbiamo ringraziare il prefetto, il sindaco, l'assessore Franco Ellucci e la dottoressa Stefania Marchionni che hanno reso possibile assieme alla protezione civile e alle forze dell'ordine lo svolgimento del mercato che è andata bene, perché la gente è stata abbastanza rispettosa e poi comunque non potendosi muovere dai comuni vicino c'è stata diciamo una riduzione della clientela, però ecco è andata bene, invece questa mattina pochissima gente dovuta, non so che stamattina il tempo era brutto, comunque sia il martedì dopo la domenica c'è sempre meno gente, però come si può vedere il pericolo di assembramenti non ci sono. Gli ambulanti ci sono comportati benissimo e siamo stati veramente molto molto contenti perché con l'amministrazione del genere non poteva che andare meglio, in quanto c'erano tutti i sensi unici, la gente si è comportata bene, è ovvio che con la pandemia il lavoro è al 70% in meno.